Bene, buongiorno, ben ritrovati. Questa settimana è dedicata a un nuovo argomento, l'ultimo argomento seriamente importante di questo corso. Successivamente prenderemo in considerazione la questione della programmazione orientata agli oggetti, che non sarebbe proprio un argomento fondamentale all'interno di un corso introduttivo sui fondamenti dell'informatica. L'ultimo argomento veramente centrale, su cui appunto ci saranno anche delle verifiche in serie d'esame, sui fondamenti della programmazione è il concetto della memoria dinamica. Quindi questo argomento conclude in qualche maniera la parte di conoscenze che riteniamo fondamentali, che un programmatore debba avere, e va in qualche maniera a rispondere a uno degli interrogativi che ci siamo posti fino adesso, quando dovevamo dimensionare un vettore, ad esempio, in base a quelle che erano le esigenze del programmatore. Però, come sappiamo, la dimensione del vettore deve essere stabilita in anticipo e quindi il programmatore dovrebbe sapere in anticipo quale sarà la dimensione del problema che il suo programma si troverà ad affrontare. Nel caso, per essere concreti, dell'esempio che stiamo portando avanti, concettuale, e cioè degli studenti che si mettono a sedere per svolgere una certa prova d'esame, come abbiamo detto altre volte, il programmatore dovrebbe sapere anzitempo quanti sono questi studenti e, non sapendolo, deve dimensionare il vettore in maniera tale da dare una dimensione massima. Per esempio, nel caso mio, so che siete 235 e quindi, supponendo che tutti quanti fanno l'esame nello stesso giorno, io dovrei mettere giù un vettore da 235 elementi, salvo usarne solamente una parte. Questo, praticamente, ne consegue da giù uno spreco di memoria. Quello che stiamo per vedere, invece, è il modo in cui si alloca la memoria solo in funzione di quella che è l'esigenza che si crea dopo che il programma è partito. Cioè, parliamo di allocazione della RAM a runtime. Cioè, il programma è partito, a seconda di quelle che sono le esigenze dell'utente del programma che lo usa in quel momento, allocherà solo la RAM che gli serve effettivamente in base alle esigenze che si sono manifestate dopo che il programma eseguibile, addirittura, è stato lanciato. Per capire come funziona questo concetto che vediamo questa settimana, e c'è il concetto della memoria dinamica, dobbiamo un pochino, ecco, far riferimento all'hardware e cioè al come i sistemi operativi in particolare gestiscono la memoria. Questo argomento sarebbe un argomento, torno a dire, di sistemi operativi e quindi noi adesso qui lo accenniamo semplicemente. Vi ricordo che quando un processo parte, il sistema operativo, quando un programma parte, il sistema operativo associa a questo programma in esecuzione un processo. Cioè, il programma diventa un processo. E a questo processo il sistema operativo associa tre segmenti di memoria importanti, dal punto di vista concettuale. Un segmento che è per il codice, un segmento per i dati inizializzati e non inizializzati e quello che sarebbero i dati globali. Tutto ciò che viene allocato prima del main andrà a finire in questo segmento. E poi c'è un segmento stack dove invece le funzioni, main compreso, allocano i propri parametri formali nonché anche le proprie variabili locali. Questo stack è un segmento di memoria che abbiamo visto nelle prime lezioni quando parlavamo dell'assembly. C'è una base che è puntata al segmento dal registro stack pointer. Poi c'è un livello crescente che è puntato dal registro extended base ebp. base pointer. Extended base pointer. Perché non si può allocare un vettore di dimensione variabile? Non lo si potrebbe fare perché se lo allochiamo in dimensione variabile, come sappiamo rischiamo il buffer overflow. O che andiamo fuori dal segmento che è stato assegnato o che andiamo a sovrascrivere le variabili che sono state allocate in maniera contigua a quel vettore. Il trucco che è stato utilizzato da tanti anni ormai per poter allocare memoria in maniera dinamica è quello di andare a occupare sì il segmento stack, ma invece che dal basso verso l'alto, voglio dire come si fa normalmente nelle chiamate di funzione, allocarlo dall'alto verso il basso. Cioè la parte estrema dello stack, che non viene, si spera che non venga usata dal programma mentre lancia le funzioni, perché più funzioni lancia più il livello dello stack cresce. La parte alta, che quindi normalmente non viene usata, si chiama heap ed è quella che viene utilizzata per le operazioni che vediamo oggi e giovedì. L'allocazione dinamica della memoria. C'è quella zona del segmento stack che può essere utilizzata per allocare dinamicamente la memoria. Chiaramente lo stack, pensatelo che cresce dal basso verso l'alto. Lo heap cresce dall'alto verso il basso. Così facendo si spera che non si diano fastidio, occupano lo stesso segmento, lo segmento stack, ma lo heap dall'alto verso il basso. Lo stack cresce dal basso verso l'alto. Certo che, se esageriamo, a un certo punto si toccheranno i due. E in tal caso ci sarà un core damp, ci sarà un, a seconda del sistema operativo, darà un errore di stack overflow. Adesso ogni linguaggio evoluto ha il suo modo per allocare la memoria dinamica. Il C++, debbo dire, fra quelli che ho conosciuto io, veramente l'ha voluta semplificare al massimo, la faccenda. Non si usano come nel C la malloc per allocare memoria e la calloc per liberare, ma viene utilizzata qui una sola parola importante che è new. New ricorda il concetto di memoria nuova, allocata dinamicamente. In pratica per allocare memoria nello heap, quindi non nel segmento dati, non nello stack, quindi non come variabile globale, neanche come variabile locale, ma come variabile allocata dinamicamente, nello heap, si premette la parola new al tipo di variabile che andiamo a allocare e poi siccome non possiamo dare un nome a questa variabile, in quanto che questa variabile sarà allocata a runtime e quindi il programmatore non sa quante ne verranno allocate, perché qui parliamo di variabili che vengono allocate all'occorrenza, quindi non possono avere un nome a priori, però dovremmo comunque accederci a queste variabili. Allora il modo per accedere a queste variabili è quello di associare l'indirizzo a un puntatore, ovviamente puntatore a quel tipo, al tipo della variabile, quindi per esempio se io voglio allocare una variabile nello heap di tipo intero, scriverò int asterisco un qualche puntatore, pi, uguale new int, punto e virgola, mi dimentico sempre i punti e virgola qui. Così facendo questo intero sarà allocato nello heap e posso anche allocarlo a questo punto all'interno di un ciclo ad esempio, quindi ne allocherò tante quante voglio io, a seconda di un indice che magari avrò letto dall'input. L'importante è capire, per fare tantissimi esempi, l'importante è capire che vengono allocate al volo, a runtime. La prima riga che vedete qui è l'allocazione di una variabile di un certo tipo, può essere un intero, un float, un char, può essere una variabile tipo struttura, come abbiamo visto la settimana scorsa. Se invece voglio allocare dinamicamente un intero array, e invece che fare tanti giri, il C ci mette a disposizione sempre la stessa parola, new, però con quest'altra sintassi. Nuovo tipo, è tutto come prima, però dopo il tipo ci mettiamo fra parentesi quadri la dimensione dell'array che allochiamo in maniera dinamica. Attenzione, questa volta dimensione può essere una variabile. Non c'è nessun problema. può essere una variabile che viene popolata, valorizzata, per esempio leggendo dall'input, e a questo punto dimensione sarà stata valorizzata, sarà 15, se parte quell'istruzione che vedete lì viene allocato in memoria un vettore di 15 elementi. Non c'è nessun problema. Certo che se dopo, al solito, lo andiamo a utilizzare per più del consentito, e qualche problema ce lo stiamo comunque a creare. Cioè questo meccanismo ci consente di allocare dinamicamente memoria, ma non è che ci consente di evitare i problemi del buffer overflow a runtime. Cioè se dopo l'utente ci mette dentro più roba del consentito in questo vettore, chiaramente andiamo a creare dei problemi. Quindi queste due istruzioni che vedete sono le uniche, non ce ne sono altre, non dobbiamo andare a calcolare quanta memoria allocare, da quale indirizzo a quale altro indirizzo, come si faceva in altri linguaggi. Sono molto semplici da utilizzare queste istruzioni. Allocano dinamicamente una variabile di un certo tipo, assognandole un blocco di memoria della dimensione opportuna. E la istruzione, come vedete, restituisce un puntatore che contiene l'indirizzo del blocco di memoria allocato. Sotto c'è un esempio, appunto. Qui abbiamo un puntatore P, che stiamo definendo in questo momento, in questa istruzione, che è un puntatore a carattere, e gli diamo come valore l'indirizzo del primo elemento, di un vettore di 100 caratteri, che viene allocato al volo. Solo se questa istruzione parte, quando parte, viene allocato, come ho detto, nello IP. Alternativamente, noi potremmo utilizzare, per riferirci a questa nuova variabile, a questo nuovo vettore allocato nello IP, possiamo riferirci a un puntatore che già c'era nel programma. Per esempio, supponiamo che il nostro programma avesse già definito un certo puntatore P a intero, per farci altre cose. A un certo punto, nel corso del nostro programma, possiamo riutilizzare lo stesso puntatore per andare a puntare una nuova variabile di po' intero allocata nello IP. Allora, a questo punto, scriviamo semplicemente P uguale new int. Non scriviamo int asterisco P I uguale new int. Non scriviamo int asterisco P, perché P c'è già, non dobbiamo definirlo. Utilizziamo un puntatore che già esiste, è già stato definito altrove, prima, ovviamente, nel codice. Quindi, cosa succede a questo punto? Quando il puntatore c'era già e aveva un certo valore, quando noi scriviamo P uguale new int, viene generata nello IP una nuova variabile, a un certo indirizzo, e al puntatore P viene dato come valore l'indirizzo di questa variabile appena allocata. Ecco, forse fino adesso ancora non si vedono le differenze fra le variabili allocate da una funzione, ad esempio, e queste qui. Ma sarà chiaro adesso, quando cominceremo a usarle. Allocare dinamicamente una variabile vuol dire che io creo spazio per essa quando mi serve, se mi serve, intendo dire, dopo che il programma è già partito. Dopo che il programma è già partito, a un certo punto io potrei anche non avere più bisogno di quella variabile. Perché, per esempio, mi è servita per fare delle elaborazioni statistiche, adesso non mi serve perché ho concluso l'elaborazione, ho salvato il risultato, e quindi adesso tutti questi dati, tutti questi studenti che ho allocato, che hanno fatto la prova, non servono più, in quanto che già ho fatto tutte le analisi statistiche che dovevo fare. A questo punto, essendo che tutte le variabili sono state allocate dinamicamente, io le posso anche, anzi le devo, per un concetto di etichetta e di pulizia del codice, posso liberare la memoria che queste variabili stavano occupando, sempre a runtime sto parlando, attenzione, perché quella stessa zona della RAM possa essere riutilizzata per allocare dinamicamente nuove variabili. In questa maniera, con la memoria dinamica, io posso pensare di avere processi che lavorano all'infinito, con un'infinita quantità di RAM. semplicemente che ogni volta riutilizzano quella di prima, cancellando quello che c'era stato scritto prima. Questo meccanismo di liberare la memoria precedentemente allocata in maniera dinamica si chiama raccolta della spazzatura, in inglese garbage collection. Quindi, se per esempio avevo prima allocato a un certo puntatore una new int, e se io scrivo delete il nome del puntatore, quei 4 byte allocati da quel new int vengono non cancellati, come al solito, vengono semplicemente rimessi a disposizione, affinché possano essere riutilizzati di nuovo da una new int. Garbage collection. Se avevo allocato un intero vettore, io posso liberare tutta la memoria utilizzata da questo vettore, scrivendo delete, nome del vettore, che sarebbe quel puntatore che vedete lì, ma prima ci metto il simbolo dell'apert, a parentesi, graffa quadra, chiusa parentesi, la graffa, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, cioè il simbolo del vettore, e così il compilatore capisce che deve liberare, per essere eventualmente riallocato successivamente, tutta la memoria utilizzata da quell'array. Chiaramente quell'array da quel momento in poi è perduto. Anche la variabile nella riga precedente, puntata da questo puntatore, dopo che ho fatto delete il puntatore, quella variabile è perduta, non lo potete recuperare più. Questo è una cosa che, se non la fate, il compilatore non vi punisce per questo. Chi vi punirà? Vi punirà la prassi, cioè quando voi farete partire il vostro programma, se lo usate per poche cose, non ve ne accorgete, ma se è un programma che lo usate per elaborare delle immagini, e quindi ogni nuovo frame, un video, ha 25 frame al secondo, per 3600 secondi in un'ora, quanta RAM è? Tantissima. Esistono computer con tutta questa RAM? Ovviamente no. Come fai a sapere quanto te ne servirà? Non posso stimare, forse sì, forse no. Beh, facciamo così. Ogni nuovo frame che vado a leggere, me lo dichiaro una nuova matrice in new al volo, se la devo leggere, la vado a leggere, dopodiché, dopo che l'ho letta, ho elaborato il frame, perché l'ho mandato, l'ho mandato al programma che doveva elaborarlo, a questo punto, la stessa memoria, la rendo disponibile per un'altra operazione, cancello quello che avevo allocato, eventualmente se mi serve, la rialloccherò di nuovo. Per fare degli esempi, supponiamo che io abbia allocato un nuovo interro al puntatore AD, se scrivo delete AD, quel nuovo interro è perduto, se avevo allocato una stringa in maniera dinamica di 100 caratteri al puntatore ADC, se scrivo delete vettore ADC, va bene, questa è, adesso, per cercare di capire quello che stiamo facendo, facciamo degli esempi, e penso che il modo migliore è farli direttamente. questo è un programmino, in cui mi definisco un intero lunghezza stringa, e poi chiedo in input quanti caratteri metti al massimo, io scriverò, non so, 20, 30, quello che io batto va a finire dentro la variabile, una normale variabile, lunghezza stringa locale al main, ecco, a questo punto lunghezza stringa ha un valore, quello che è stato letto dall'input, io lo posso tranquillamente utilizzare per dimensionare un vettore di caratteri che però viene allocato mediante la parola chiave new nello heap e non nello stack, cioè non sarà questa qui una variabile locale alla funzione, ma sarà una variabile, un vettore di variabili allocato dinamicamente, e quale sarà il nome di questo vettore? Sarà P, perché l'indirizzo di questo vettore o per meglio dire l'indirizzo del primo elemento, l'indirizzo del primo byte, del primo elemento di questo vettore viene scritto dentro questo puntatore P e quindi svolgerà all'interno del codice il ruolo del nome del vettore. ovviamente P deve essere un vettore di carattere, un puntatore a carattere, perché è il nome di un vettore di caratteri, quindi deve essere puntatore a carattere. Perché ho fatto ovviamente lunghezza stringa più 1? Perché dopo ci voglio andare a mettere dentro anche il byte di terminazione di stringa. Ok, adesso puoi mettere al massimo lunghezza stringa, caratteri, senza spazio, perché li vado a leggere con questo operatore qui. Se li leggessi con l'altro operatore cin.get, ma dovrei fare un for, adesso per non complicare. E poi, che cosa succede? Con questo operatore qui, cosa succede? Quello che leggo dall'input mi va a finire dentro questa nuova variabile che ho allocato nello ip. Quanto sarà lunga quello che gli ho detto prima? Quindi la dimensione del vettore a questo punto è tutto corretto. Poi me lo faccio anche mandare in output. Poi, secondo le regole dell'etichetta della programmazione, cancello, libero, dopo che non mi serve più, libero la memoria che ho allocato dinamicamente. Qui non serviva ovviamente farlo perché adesso il programma chiude per cui la libera comunque. Avete domande su questo codice? Se non avete... Si vede? Dalle ultime file si vede il codice? Grazie. Se non avete domande su questo codice lo compiliamo e vediamo. non avete domande per cui compiliamo ha compilato lo seguiamo quanti caratteri mette al massimo supponiamo 20? Ok. Adesso puoi mettere al massimo 20 caratteri senza spazio. e mi stampa lo rilancio quanti caratteri mette al massimo? 10 adesso lui allocherà non un vettore di 20 anzi di 21 caratteri ma allocherà un vettore di 11 caratteri al volo non è stato ancora non esiste questo vettore non esiste proprio esisterà appena premo invio ecco adesso l'ha creato nello hip e l'ha creato di 11 elementi adesso puoi mettere al massimo 10 caratteri senza spazio allora io vado a scrivere so 10 so 10 non ci dovrebbe essere problema allora ci metto pure il cognome a questo punto io forzo ho allocato nello hip un vettore di 10 caratteri ma adesso lo sto forzando e quindi chiaramente sto mettendo di nuovo nella condizione di problematicità non so esattamente quello che succede adesso giuro non lo so lo posso immaginare cioè che non succede niente ma è solo una mia presunzione non è successo niente perché perché a fianco al vettore nello hip c'aveva spazio per scriverci anche dragoni e ci ha messo pure il byte di terminazione di stringa come abbiamo parlato anche l'altra volta tutto nello hip stavolta perché non c'erano altre variabili però se io lo rilancio e scrivo 10 10 Però c'è un carattere lì che, vabbè, se esageri vai in core dump perché c'è stata una roba un po' complicata in effetti a spiegare quello che è successo, in ogni caso è successo qualcosa di grave, perché ovviamente tu non puoi mettere dentro un vettore, anche allocato dinamicamente, l'hai allocato tu dinamicamente dicendo che al massimo ci potevi mettere 10 perché ce ne devi mettere 50 dentro di carattere. Allora la domanda è, nello heap vengono allocati in fila come nello stack? Sì. Solo che dall'alto verso il basso, nel segmento stack. Va bene. Sì. È chiaro che, ovviamente, questi puntatori, li abbiamo detto tante volte, sono una tecnica potentissima con cui si possono fare anche cose gravi. Vi ho detto più volte che molti virus si creano sulla base di queste violazioni. Cioè, nella parte che è stata introdotta successivamente, cioè da dragone in poi, tutti quei byte che io ho messo lì potevano essere il codice di un virus. Che veniva inserito a questo punto nella RAM, nello heap. se trovavo il modo, se trovo il modo, e si trova, di far sì che la successiva istruzione che viene compiuta punti su quella zona di memoria, ma guardate prima, adesso ha dato errore, però l'esempio precedente, lo rilancio ancora, attenzione, non ha dato errore. Quindi i dragoni li ha allocati in memoria. Ok, sono 6 byte, però, pensati bene, potrebbero essere un'istruzione, per esempio, potrebbero essere un'istruzione assembly, che spegne il computer, fa lo shutdown. Se io dopo, non è successo niente, non c'è errore, per cui dopo verrà eseguita un'altra istruzione che sta pure nel codice. Se io, con delle tecniche, faccio il mio Natale, che poi venga eseguita l'istruzione che parte dalla D di Dragoni, io spengo la macchina. Tanto per capire la problematicità di questo genere di problemi. Ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi. Oggi parliamo della memoria dinamica. Facciamo un altro esempio. Allora, qui, con questo esempio, introduciamo due nuove primitive che lavorano con le stringhe. strlen, lunghezza di una stringa, e strcpi, string copy, copiatura di una stringa. Si tratta di due funzioni di libreria che stanno nella libreria C-string che mette a disposizione il C++. L'esercizio, cioè l'esempio che stiamo vedendo, è sempre un esempio di allecazione dinamica, comunque. Vediamo un attimo. Cosa fa? definiamo qui una stringa di mille caratteri. per metterci al riparo da qualunque buffer overflow. Poi chiediamo all'utente quanto sarà lunga veramente questa stringa. Dopodiché andiamo ho detto una stupidaggine, chiedo scusa. Chiediamo all'utente era un po' soprappensiero. Non chiediamo all'utente niente. Cioè andiamo a leggere quello che l'utente batte dall'input. L'utente batterà una stringa e questa stringa sarà senza caratteri sempre, perché viene eletta da questo operatore. Verrà messa dentro questo vettore di mille caratteri. Al termine verrà messo il byte terminazione di stringa. Quel byte terminazione di stringa consentirà la funzione string length di andare a calcolare la lunghezza della stringa immessa nel vettore. Mi capite? Allora ne ho allocati mille ne scrivo dieci e qui ne scrivo dieci string length qui calcolerà dieci e dieci verrà messo dentro questa variabile lunga lunghezza stringa. Adesso che so quanto è lunga la stringa faccio una cosa un po' strana se volete. La vado ad allocare nello IP come variabile dinamica come vettore stringa allocata dinamicamente. l'indirizzo della stringa allocata sarà associata a P e e poi copierò mediante la stringa copy la stringa che avevo passato prima dentro P il vettore allocato dinamicamente che a questo punto sarà a lungo esattamente quello che serve per ospitare quella stringa che ho abbattuto da input poi la mando in stampa dicendo P uguale e mando in stampa con questo operatore tutta la stringa che è allocata è stata allocata dinamicamente. Di nuovo avete domande su questo pezzetto di questo codice su questo programmino? L'unica cosa che mi viene in mente è che comunque qui c'è stato uno spreco di memoria perché comunque è stata allocata localmente una stringa di un vettore di mille caratteri. È vero però è anche vero che adesso io potrei allocare all'interno di un ciclo di foro utilizzare questo trucchetto qui per allocare infinite no infinite no perché comunque lo heap tende a riempirsi ma tantissime stringhe di dimensione non nota al programmatore e queste vengono allocate solo se effettivamente si richiede di allocarle a runtime e solo per la dimensione che serve per allocarle quindi string mille mi serve come buffer ci scrivo dentro la stringa che voglio allocare dinamicamente poi la vado allocare dinamicamente ma questa volta però alloco solamente lo spazio che serve per quella stringa se non avete domande lo compiliamo e vediamo l'effetto anche se non c'è niente di vi vedo perplessi siete perplessi ma la perplessità svanirà nella seconda parte di questa lezione e poi sarà cancellata totalmente giovedì che devo fare? metto una stringa va bene allora questa non so quanto è lunga va a finire in quello da mille però viene calcolata quanto è lunga viene allocata sullo hip una stringa esattamente della dimensione di quella lì più uno e poi la stampa mi verifica che effettivamente è stata allocata correttamente io questa cosa qui la potrei ripetere all'interno di un for e ho un'ottimizzazione dell'uso della memoria sullo hip l'ultimo esempio facciamo lo stesso discorso però questa volta con non un vettore di caratteri ma un vettore di interi che a questo punto è chiaro il vantaggio gli chiedo all'utente quanti elementi ha il vettore che vuoi mettere e mi genero una variabile lunghezza vado a leggere la risposta per esempio 33 a questo punto genero nello hip alloco nello hip un vettore di 33 elementi per ospitare gli elementi che poi andrò a leggere anzi in questo caso non li leggo neanche perché faccio un for da 0 all'un meno 1 perché partiamo dallo 0 e mi vado ad allocare a prima questo mi vado a mettere dentro l'elemento dell'indice l'elemento di indice i il valore i più 1 è una stupidaggine giusto per fare qualcosa per riempirlo e poi me lo vado anche a stampare in output spaziando ogni elemento con uno spazio quando ho finito alla fine cancello il mio array cioè cancello rendo disponibile la memoria dell'array la ram dell'array per uno successivo utilizzo dinamico sempre avete dubbi su questo codice? domande? se non avete domande come al solito compiliamo ed eseguiamo quanti elementi ha il vettore? 33 vettore che non esiste non esiste nessun vettore in questo momento nella ram 33 a questo punto verrà creato un vettore di 33 interi nello heap verrà anche automaticamente riempito tutto quanto da 1 a 33 e poi lo stamperà in output adesso il vantaggio è chiaro a questo punto abbiamo allocato un vettore esattamente della dimensione che ci serviva sì però questo lo fa da sempre la memoria dinamica è una caratteristica del C da sempre il C++ l'ha solo ereditato e ha messo la parola new per gestirla in maniera più efficiente e questo è il modo corretto per allocare dinamicamente un vettore quello che abbiamo visto l'altra volta è che come variabile locale tu puoi mettere una dimensione variabile allocarla prima e poi andarla a definire è comunque una tecnica rischiosa perché potresti non aver allocato la variabile prima e perché comunque andando a allocare quel vettore di quella dimensione potrebbe andare nel momento dell'allocazione a sovrascrivere altre variabili non lo sappiamo o andare in stack overflow qui c'è attenzione questa tecnica lo vedremo giovedì c'è anche un sistema per evitare lo stack overflow quando che la memoria si sta per ridurre a zero quella disponibile abbiamo una funzione che parte quando c'è un'eccezione mi spiegherò giovedì che se sto per esaurire la memoria non c'è più spazio c'è lo hip sta andando a toccare lo stack me lo dice e quella allocazione non me la fa fare mi restituisce un mancata allocazione ma il programma non va in crash no era già partito perché qui stiamo parlando attenzione il programma è già partito queste sono tutte operazioni che vengono a fare quando il programma sta già girando ma girando potrebbe andare in stack overflow non ci va mi dice guarda non ho abbastanza RAM per per allogarti questo vettore farlo più corto per non mandare in crash il programma poi vi farò vedere giovedì bene se vi sono stati chiari questi esempi adesso andiamo a vedere delle applicazioni invece serissime che non potrebbero aver avuto spazio di nuovo nella storia dell'informatica se non ci fosse stata la allocazione dinamica della memoria sto parlando di delle strutture date che si chiamano liste 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 semplici liste doppiamente elincate alberi grafi gli ultimi le ultime strutture che ho detto alberi e grafi sono proprio il pane quotidiano dell'intelligenza artificiale stiamo parlando delle strutture dati che cresceranno o diminuiranno di dimensione a seconda di come sta andando l'esecuzione del programma proprio sarà come una gestione della memoria fisarmonica sarà allocata tanta o poca a seconda del momento in cui il programma sta lavorando in quel momento e ci arriviamo presto già oggi cominciamo a vedere spero le prime cose poi giovedì sarà totalmente dedicata alla lezione alla gestione delle liste dinamiche partiamo da qui riprendiamo il concetto di struttura dati io per esempio ho una struttura dati studente che ha due campi il nome e poi un campo della struttura studente è un puntatore a studente e gli do il nome successivo cioè sto cominciando nella mia testa a pensare di poter utilizzare la struttura studente come se fosse un anello di una catena c'è un primo che ne punta uno un altro che ne punterà un altro che ne punterà un altro così via una catena che poi grazie alla memoria dinamica farò crescere o diminuire a seconda della necessità mentre con il vettore è vero tu puoi allocare un vettore in base a quello che ti serve per esempio parte la prova scritta io vedo quanta gente si è segnata vedo quanti sono sono 15 allora alloco dinamicamente un vettore di 15 strutture studente bene va bene se la regola dell'esame non ammette che qualcuno si venga a mettere a sedere quando l'esame è già iniziato se cambio le regole e ammetto che uno si metta a sedere a fare l'esame dopo che l'esame è già iniziato dopo che già i 15 stanno a sedere e quindi diventerebbero 16 l'avere allocato un vettore di 15 non mi sta più bene perché a questo punto me ne servono 16 di posti allora cosa faccio invece che allogare dinamicamente un vettore io alloco come stiamo per cominciare a vedere dinamicamente una lista e ciò che faccio vedo che c'è uno studente entra allora alloco uno studente ne entra un altro ne alloco un altro ne entra un altro ne alloco un altro e questi fra di loro saranno tutti quanti legati dal primo fino all'ultimo alla fine quando vedo che non arriva più nessuno non succede proprio niente perché se poi ne arriverà un altro ne allocherà un altro ancora già il programma è partito a runtime tutto questo questo è quello che ho in mente adesso di fare di cominciare a fare per far questo stavo dicendo mi devo creare una struttura che abbia almeno un campo puntatore alla struttura medesima questa è la struttura data e fondamentale che mi consentirà di costruire le cosiddette liste questo campo qui nome contiene il valore informativo della struttura la parte informativa quest'altro qui invece è un campo puramente strutturale concettualmente di per sé non avrebbe informazione mi serve solo per legare una struttura a un'altra facciamo un esempio supponiamo di definire questa struttura studente con due campi e immediatamente andare subito a definire due variabili a e b di quel tipo poi posso scrivere come abbiamo imparato a fare la settimana scorsa a.nome uguale ugo in pratica io che cosa succede succede che ciò allocati da qualche parte sulla ram questa non è memoria dinamica questa è memoria normale per esempio potrebbero stare nello stack due variabili a e b di tipo studente con ciascuna un campo nome e un campo successivo per quanto riguarda a ho scritto qui l'istruzione a.nome uguale ugo quindi il campo nome di a ci sarà scritto ugo nome è un vettore di 15 caratteri nel campo successivo cosa ci sarà scritto non lo so casuale perché non l'ho valorizzato per quanto riguarda b anche b starà sulla ram e c'ha due campi nome successivo pure lui e proprio non so nessuno dei due cosa c'è dentro perché il campo nome di b non l'ho valorizzato va bene adesso io posso fare così posso dire guarda c'è un puntatore p un puntatore a studente che qui non c'è in figura gli do come valore l'indirizzo di a poi dei referenzi o p che quindi mi andrà a prendere a perché p sta puntando ad a il campo successivo lo mando a puntare b cioè sto valorizzando il campo successivo di a in questa maniera dopo che ho fatto questo e quindi il campo successivo di a mi va a puntare b posso dei referenziare p e quindi vado ad a punto successivo e quindi vado sul successivo di a punto nome vado a dei referenziare il successivo e quindi vado a prendere il campo nome di b cioè quello che vado a fare è una cosa di questo genere definisco un puntatore p che punta a perché gli ho dato l'indirizzo di a poi dei referenzi o p e dico il campo successivo del vettore puntato da p prende come indirizzo la variabile b e poi se faccio anche questa operazione qui vado a scrivere il nome aldo dentro b tutto questo che sto facendo non c'ha un granché senso se le due strutture a e b ce le avevo già e avevano un nome a e b appunto io invece che fare tutta sta pappardella potevo scrivere a.such uguale ampersand b potevo scrivere b.nome uguale aldo a cosa è servito legarle assieme niente a niente di niente di niente perché i nomi ce l'avevo già di queste due strutture perché erano state allocate staticamente ma la domanda che anticipo è e se io le vado allocare dinamicamente allora cambia tutto perché se io le alloco dinamicamente i nomi di queste strutture non ce l'avrò e quindi l'unico modo per poterci arrivare sarà lavorare come sto lavorando adesso qui sarà più chiaro fra un attimo intanto dico questo che se io perché ho dovuto mettere qui le parentesi tonde intorno al dereferenziamento del puntatore p perché se non avessi messo le parentesi tonde il punto avrebbe avuto precedenza rispetto all'asterisco e quindi non avrebbe funzionato però mettere le parentesi tonde e il punto è una cosa un po' noiosa ci si sbaglia allora il C e il C+++, pure hanno rimpiazzato quest'operazione con quest'operatore qui freccia a destra trattino parentesi angolare a destra attaccati stanno per puntatore campo puntato mi spiego cioè se io devo dereferenziare un puntatore per andare a prendere un campo puntato un campo della struttura da lui puntata invece che fare tutta questa cosa che è difficile da leggersi posso scrivere puntatore freccia campo puntato della struttura che lui sta puntando per esempio invece che scrivere asterisco P fra parentesi tonde punto successivo uguale ampersand B io posso scrivere P freccia successivo uguale ampersand B questa istruzione qui e questa sono la stessa istruzione adesso se questo è chiaro cominciamo a giocarci veramente qui non esiste in questa slide la memoria dinamica ma abbiamo a questo punto gli elementi per poter andare a creare liste inserire elementi in testa inserire elementi in coda e fare tante cose fare anche cose che non vediamo in questo corso perché appartengono questi argomenti agli alberi e il corso di algoritmi che avrete l'anno prossimo molto più estesamente studieremo gli alberi per chi ci arriverà vorrà arrivarci e i grafi al corso di intelligenza artificiale nell'ultimo anno cioè il secondo anno della magistrale se io ho strutture di questo tipo quindi con una parte che contiene il valore l'informazione è una parte che è un puntatore successivo io posso mediante la memoria dinamica creare liste semplici come quella che ho indicato qui in figura questa è una specie di collana una catena che ha un inizio e una fine l'ultimo elemento è contraddistinto dal fatto che il suo puntatore il suo campo puntatore punta zero punta null null questo invece sta puntando l'indirizzo di questo questo sta puntando l'indirizzo di questo e questo qui che è l'inizio sta puntando al primo questa è una struttura dati comunissima nella programmazione ha l'unico problema che se io voglio arrivare al 355 millesimo elemento devo sempre entrare dal primo scorrerli tutti fino al 300 millesimo e poi lo prendo quindi c'è un ingresso seriale e uno scorrimento seriale meglio sono più efficienti sono le liste doppiamente linkate che si usano nella programmazione ma noi non vediamo in questo corso le farete per conto vostro perché dopo che avete visto le cose che vediamo qui sarà naturale vi divertite a fare liste doppiamente linkate le farete da soli non c'è bisogno di niente la lista doppiamente linkata è una lista in cui la struttura in questione c'ha la parte informativa violetta qui rosina che è e poi c'ha due puntatori uno che punta a destra e uno che punta a sinistra c'è uno che punta in avanti per meglio più correttamente dire e uno che punta indietro per esempio quello di destra che punta in avanti e quello di sinistra che punta indietro poi ci sono due puntatori che sostanzialmente fa sì che questa struttura dati nel complesso la lista doppiamente linkata sia simmetrica si può entrare o da destra o da sinistra è più efficiente della lista semplice perché se io più o meno so dove si trova l'elemento nella lista semplice se io devo andare a prendere l'ultimo elemento la coda devo comunque entrare dalla testa e scorrerà tutta con quest'altra struttura dati se io devo andare a prendere l'ultimo elemento cioè la coda basta che entro dalla coda e lo prendo subito un ulteriore salto sempre con due o più puntatori è il concetto di albero il concetto di albero che l'albero altro non è che un particolare grafo un albero è un grafo che ha una radice e da quella radice dipartono dei rami e da quei rami dipartono altri rami fino alle foglie le foglie sono dei nodi che non hanno altri figli quello che state vedendo adesso è un albero e si può implementare con le tecniche che stiamo per vedere tutta memoria dinamica non lo faremo in questo corso lo faremo in corso di algoritmi l'anno prossimo noi ci concentriamo questa settimana solo sulla lista semplice i più bravi di voi automaticamente con poco sforzo capiranno come implementare le liste doppiamente linkate gli alberi insomma è una cosa un pochetto più delicata li farete negli anni successivi allora oggi cominciamo a vedere nella seconda parte della lezione le liste semplici giovedì termineremo dobbiamo vedere sostanzialmente come si creano le liste con la memoria dinamica e come anche si possono andare a togliere elementi da queste liste cioè sostanzialmente concentriamo la nostra attenzione su sei funzioni tre per inserire elementi e tre per togliere elementi le tre per inserire sono inserimento in testa cioè vediamo implementiamo una funzione per dato una lista inserire un elemento alla testa di quella lista inserimento in coda cioè io voglio aggiungere un elemento alla lista ma all'ultimo posto oppure inserimento ordinato che significa io voglio inserire un elemento in una lista ma lo voglio mettere in un posto specifico in base a un criterio di ordinamento che vige sugli elementi di questa lista le tre funzioni che andremo a vedere per estrarre un elemento sono la prima la più semplice estrarre la testa della lista cioè creare dopo una lista dove il primo elemento non c'è più è stato tolto la seconda estrarre dalla coda della lista e cioè creare una lista come quella di prima però dove non c'è più l'ultimo elemento e la terza ed ultima delle sei funzioni che vediamo è estrazione di un dato elemento cioè io sto cercando all'interno di una lista un elemento che abbia una certa caratteristica per esempio che si chiami Aldo o che abbia 33 anni o che abbia preso il voto 27 scorro la lista fino a quando non trovo un elemento che corrisponde a queste caratteristiche da me richieste a quel punto quell'elemento lì dovunque questo si trovi lo elimino dalla lista e riappiccico le due parti perché se lo vado a togliere si crea un un taglio devo riattaccare le due liste con queste sei funzioni che andremo a vedere voi potrete fare qualunque operazione sulle liste semplici e diciamo che all'esame una volta ogni due c'è una prova d'esame che riguarda le liste una volta sarà sulle liste un'altra volta sarà sui vettori in entrambi i casi ci sarà da andare a leggere i dati da un file o andare a scrivere su un file più o meno gli esercizi come vedete dai siti dove sono gli esercizi degli anni passati si assomigliano un po' tutti ecco quindi ve lo dico subito queste sei funzioni che andiamo a vedere non sarebbero difficili però sinceramente ve lo dico cioè non è che sono intuitivi sono molto intuitive e quindi il consiglio che vi do per una volta è di impararvele a memoria fate un po' di esercizi di memoria perché se vi mettete quel giorno a pensare a come fare l'operazione di andare a togliere un elemento da una vista vi passa il tempo che non ce la fate insomma ve l'ho imparata a memoria sono codici al massimo di 12 righe quelli che state per vedere con un piccolo esercizi come imparare una poesia insomma ecco via cominciamo cominciamo dalla prima l'inserimento in testa in realtà ancora non abbiamo visto proprio come si genera una lista e quindi proprio proviamo a creare una lista facendo un programma che crea la lista inserendo in testa alla lista stessa e quindi si inizierà con una lista vuota cos'è che contraddistingue una lista questo ve lo dico subito la lista in pratica è una struttura dati che è appesa al puntatore che punta al primo elemento è come una catena una collana avendo avendo aperto la collana tutti gli elementi sono appesi al primo si entra da lì e si scorre per cercare l'elemento il primo ovviamente è quello che è la testa della lista la lista vuota da che cosa sarà costituita no perché la testa è il primo elemento se è vuota non c'è neanche il primo un puntatore nullo il puntatore nullo vuol dire che la lista è vuota se sta puntando un elemento vuol dire che un solo cioè il puntatore punta un solo elemento se l'elemento puntato ha il suo campo puntatore successivo a nulla vuol dire che c'è un solo elemento e quello è la testa e nonché l'unico elemento della lista ma quello che volevo dire è si parte nel creare una lista da un puntatore nullo il puntatore nullo vuol dire lista vuota cioè che cosa dobbiamo fare noi dobbiamo andare a creare una lista come questa qui in questo caso in figura la lista ha tre elementi di cui l'ultimo elemento ha il campo successivo settato a zero a null nulla il primo cioè è puntato da un puntatore che si chiama inizio della lista noi questo dobbiamo creare e il codice che vedete qui nella slide proprio questo fa fa così sostanzialmente innanzitutto definiamo la lista così facendo cioè chiamiamo lista mediante la parola chiave type def che è molto comoda in questo caso il puntatore a lm dove lm è il generico elemento della lista è la struttura lm è il nome della struttura lm è una struttura che ha due campi un campo informativo e un campo successivo puntatore a lm lo chiamo lista da questo momento in poi lista e puntatore a lm sono sinonimi questo ci consente adesso di andare a fare le operazioni in maniera più comoda e scriverle anche in maniera più semplice io posso fare ad esempio una funzione crea lista che prende in input un numero che sarebbe il numero degli elementi della lista che voglio creare e mi restituisce lista un oggetto di una variabile di tipo lista che sarebbe una variabile puntatore ad elemento in pratica quello che mi restituirà crea lista è il puntatore all'inizio della lista vediamo come funziona questa funzione si definisce innanzitutto due puntatori a lm che sono p e p0 e p0 lo inizializza a zero che sta a significare che partiamo che la lista è vuota non c'è nessun elemento dentro la lista poi sappiamo quanti sono gli elementi che dobbiamo inserire in questa lista a partendo da una lista vuota e quindi facciamo un for ripetiamo le operazioni che stiamo per vedere n volte perché n sono gli elementi che dobbiamo andare a inserire ed ecco l'elemento chiave dove andiamo a inserire questa lista nel segmento dati no perché non sappiamo quanto sarà grande nello stack no per lo stesso motivo nello ip c'è che cosa facciamo dobbiamo creare per inserimento e quindi dobbiamo allocare ram per un nuovo elemento e quindi scrivo p che è un puntatore a elem uguale new elem cioè creo e alloco nello ip un nuovo elemento e il suo indirizzo lo associa al puntatore p quindi nello ip c'è questa nuova struttura anzi questa perché ce n'è una sola questa struttura è puntata da p e per il momento basta punta e virgola dopo che l'ho allocata io la devo andare probabilmente a valorizzare perché se no che l'ho allocata fa ci devo mettere qualche cosa dentro posso andare a leggere dall'input cosa ci devo mettere dentro e quello che ci devo mettere ce l'ho riverso scrivendo p freccia info così popolo questa casella qui violetta leggendo il dato dall'input in questo esempio poi che debbo fa debbo andare a popolare il campo successivo essendo che essendo che essendo niente perché questo sarà un ciclo si fa così p freccia succe uguale p0 che sarebbe all'inizio punto 0 e quindi viene messo a null questo campo qui e poi p0 diventa p attenzione p stava puntando questo per cui p0 fa un passo indietro e va a puntare l'elemento che ho appena inserito quindi con questi due puntatori p e p0 io mi vado a creare la lista giocandoli all'interno di un for perché poi i diventa 2 passo al secondo elemento e si riparte p uguale new element viene creato un nuovo elemento sarebbe questo qua questo è già al passo 3 siamo si popola la componente informativa del nuovo elemento poi si manda il campo succe del nuovo elemento a puntare quello di prima perché p0 sta ancora puntando questo e poi si aggiunga p0 che prende p p0 si porta indietro cioè p0 alla fine di ogni ciclo punta sempre il primo elemento della lista che stai creando e sta crescendo cioè p ogni volta mi servirà per allocare il nuovo elemento p0 invece ogni volta a ogni ciclo mi punta il primo elemento della lista questo può andare avanti così per sempre ma ovviamente sta dentro un ciclo for per cui andrà avanti n volte alla fine p0 mi punterà l'ennesimo elemento che è il primo perché è stata creata questa lista per inserimento in testa faccio return p0 e crea lista quindi restituisce al main probabilmente che l'avrà chiamata la lista che ha creato finito abbiamo creato una lista di n elementi li abbiamo tutti quanti valorizzati per quanto riguarda il rettangolino violetto ma soprattutto li abbiamo legati fra di loro con una struttura di puntatori dove ognuno punta il successivo quindi fra di loro sono legati certo che è una roba da brivido perché se fossero un milione di elementi sarebbero tutti legati appesi al puntatore inizio se si perde inizio per un qualche motivo per un errore di programmazione è persi tutti un milione gli elementi perché non si è più dove andare a ritrovare adesso probabilmente non so se è chiaro insomma lo vediamo in pratica via allora spero che si veda adesso ingrandisco un po' il codice anche se non c'entra tutto il programma dunque questo è il primo programma che vediamo con le liste e fa quello che abbiamo appena visto dalla slide innanzitutto mi creo una struttura dati che la chiamo studente dove c'è un campo nome di 12 è un 12 vettore di 12 caratteri un voto qui ce ne potrei avere quanti ne voglio di questi campi sarebbero la parte effettivamente che c'è il valore e poi questo campo strumentale successivo che è un puntatore a studente a una struttura di tipo studente che è la struttura di cui lui stesso fa parte come abbiamo già discusso poi l'espressione puntatore a studente la posso tralasciare anche così ma il C++ mi chiede per motivi suoi di definire un nuovo tipo puntatore a studente e dargli un nome e in questo caso il nome che mi è venuto in mente di dargli è il nome lista perché stiamo a creare liste il nome in italiano lista questa funzione che vedete qui dalla riga 13 è proprio quella cut and paste presa dalla slide l'abbiamo appena commentato e non c'è niente di diverso a chi la chiamerà restituirà la lista o dopo per cercare di vedere veramente quello che sta succedendo a livello di indirizzi RAM mi sono costruito una procedura vedete che non restituisce niente che l'ho chiamata stampa lista a cui passerò la lista passandogli il puntatore ecco come si passa una lista una funzione si passa una lista una funzione passandogli il puntatore al primo elemento ovviamente perché tutta la lista è piccata al primo elemento non un vettore il puntatore al primo elemento bravo l'analogia è valida non avevo capito scusa e in fondo è come quando si passa un vettore che si passa il puntatore al primo elemento del vettore grazie non l'avevo mai fatta questa associazione mentale il concetto è effettivamente analogo dal punto di vista funzionale l'unica cosa l'unica differenza importante ve l'anticipo è che gli elementi del vettore visto che mi hai dato il desco per fare questa analogia ulteriore questa disanalogia la tua era un'analogia io invece adesso faccio la differenza gli elementi del vettore sono tutti allocati contiguamente nella ram non così come vedrete giovedì sarà chiaro le liste una caratteristica delle liste è che gli elementi vengono messi come vedrete nello hip all'inizio contiguamente ma siccome che si possono cancellare aggiungere eccetera alla fine saranno sparsi nello hip non saranno contigui ma lo vedremo giovedì alla fine alla fine degli esercizi allora mi sono fatto sto andando verso la fine della lezione di oggi mi sono fatto una una procedura stampalista che gli passo la lista passandogli il puntatore al primo elemento lui mi scorre lei mi scorre questa procedura alla lista e mi stampo un po' di cose per cercare di capire quello che sta succedendo innanzitutto me la scorre dall'inizio fino alla fine come faccio a farlo fermare sto scorrimento lo scorrimento si formerà quando p diventa nil o potete scrivere zero o potete scrivere null se scrivete null è un po' più portabile il codice ma in realtà che sappia io tutti quanti utilizzano il valore zero per specificare il puntatore che non punta niente per cui io scrivo zero perché è un po' più compatto allora finché non arrivo al puntatore che non punta niente cioè finché non arrivo a questo elemento qua si parte da qui mi stampo i dati di questo poi vado oltre mi stampo i dati di questo poi vado oltre mi stampo i dati di questo poi non vado oltre perché sono arrivato a puntatore nil come faccio così allora mi stampo tutto quello che voglio stamparmi e qui mi stampo un sacco di cose mi stampo l'indirizzo la prima cosa mi stampo esagero questa è un'esagerazione proprio l'indirizzo del campo nome della struttura puntata da P perché veramente io qui volevo capire anni fa proprio dove stavano quanti erano lunghi allora poi uno spazietto e poi mi stampo quello che c'è scritto dentro il campo nome non l'indirizzo del campo nome poi uno spazietto poi mi stampo l'indirizzo del campo voto e poi mi stampo il voto poi mi stampo l'indirizzo del campo successivo il solito spazietto e poi mi stampo il contenuto del campo successivo e questa è l'unica cosa veramente interessante come state per vedere dopo che mi sono stampato tutto quello che voglio stampare e qui ho peccato proprio di gola proprio è stata proprio una bulimia di robe faccio l'operazione fondamentale che è quella di saltare all'anello successivo della catena eccola qui questa proprio la dovete stamparvela in mente perché praticamente la dovete utilizzare sempre nelle sei funzioni che stiamo per vedere e cioè P diventa P freccia succe nel for per scorrere un vettore facevamo I più più I diventava I più uno e questo è l'analogo P diventa P freccia succe cioè P diventa il puntatore successivo della struttura che lui sta puntando cioè quindi P fa un salto in avanti va verso la fine del fondo della lista facendo un salto questa veramente se non capite questa evidenziata in grigio non posso andare avanti ditemi che l'avete capita P P uguale P freccia succe P freccia succe l'avete capita? Non è non è un'offesa se non l'avete capita però sinceramente avete capito? Sono stato chiaro intendo di? Sicuro? No Non sono stato chiaro? Sì Chiaro anche per te? Allora se è chiaro per tutti ecco qua quello che farò il main mi definisco numero studenti uno short int chiedo quanti sono gli studenti che sono entrati che l'hai visti proprio che si sono messi a sede contali 15 alleggo 15 qui e mi creo mi creo la lista di 15 come faccio a crearla? lancio crea lista quella funzione che abbiamo appena visto passandogli 15 mi crea una lista di 15 e inserendoli in testa quindi il primo che gli do starà in coda l'ultimo che gli do sarà il primo e quello che sta il puntatore che punta il primo lo restituisco e va a finire dentro un puntatore che ho chiamato scritto di tipo puntatore a elem che lo userò per passare quella lista alla procedura stampa lista che poi me la dovrà stampare sull'output lancerò stampa lista passandogli il puntatore che ha raccolto il puntatore d'inizio restituito dalla funzione crea lista quindi la funzione crea lista crea la lista dei 15 il puntatore al primo lo passa ha scritto è scritto io lo passo a stampa lista così la lista viene passata a stampa lista che la stampa allora compiliamo e la lanciamo quanti sono gli studenti adesso potrei scrivere 15 15 mila 15 milioni 15 milioni comincia a essere un pochetto a rischio lo stack anche 15 per me è troppo perché adesso devo scrivere tutto dall'input per cui scrivo 4 gli studenti sono 4 ne ho visti 4 che si sono messi a sedere ok adesso dovrei dare valorizzare i campi c'era nome e voto andiamo a rivedere tanto il codice sta qua sotto ecco nome e voto allora vuole per esempio Rossi quanto ha preso 22 poi Verdi che succede 23 Bianchi 24 neri 18 adesso ancora non è successo niente parte no come non è successo niente è successo ha creato la lista questa è Crealista che sta facendo queste domande ha messo Rossi all'ultimo posto Verdi Punta Rossi Bianchi Punta Verdi Neri Punta Bianchi e quando premo invio il puntatore a neri viene passato a stampa lista che me la stampa in output e c'è tutta questa bulimia di dati che adesso andiamo a vedere praticamente all'indirizzo 70 non lasciamo perdere quello che c'è prima all'indirizzo 070 c'è sta neri anzi c'è sta il campo il primo campo della struttura che era proprio il campo nome ci starebbe questa n qui per essere precisi quell'n lì sta all'indirizzo 070 all'indirizzo 7c ci sta il vuoto che è 4 byte ovviamente non è 1 e 8 quello è il complemento a 2 è un intero dove sta 7c? allora 0 è 0 c è a è 10 b è 11 c è 12 sta 12 posti dopo perché da qualche parte eccolo qua avevo detto che il campo nome è 12 quindi il voto sta 12 byte dopo 12 char dopo e poi a 80 no e poi che cosa c'è? sì a 80 c'è il campo successivo che il cui valore è questo qui in essa decimale 0x sta per essa decimale 17 BA 050 cioè il valore del successivo dei neri è l'indirizzo dei bianchi o 80 rispetto a 7c 80 quella è 8 0 in essa decimale c dopo c che c'è E E no ABC D E F 0 sta 4 dopo perché 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 è un intero allora vedete che neri sta puntando bianchi bianchi sta puntando verdi e verdi sta puntando rossi e rossi chi punta? abbiamo creato la nostra lista di elementi linkati fra di loro ognuno punta successivo in questo momento che l'abbiamo appena creata effettivamente è come se fossero un vettore stanno tutti attaccati ma adesso quando che la elaboreremo l'esempio complessivo lo facciamo dopo giovedì vedrete che cominciano a crearsi buchi qua concludiamo oggi vedendo lo stessa cosa però facendo una struttura di esercizio che mi servirà per vedere le altre funzioni successivamente cioè io che cosa faccio adesso questa funzione che abbiamo appena visto che abbiamo usato per creare la lista me la scorporo dal programma dal programma crea lista e vado a creare proprio una funzione che serve solo per questo per creare un elemento per inserire un elemento in una lista già data mi faccio cioè una funzione che la chiamo inserisci in testa anzi una procedura che io gli passo un elemento da inserire a e una lista dove andare a inserire come gli faccio a passare la lista e gli passo il puntatore però in questo caso attenzione faccio una cosa molto sofisticata ve lo debbo dire e che insomma se la imparate fate una cosa buona gli passo non già il puntatore ma addirittura glielo passo questo qui come riferimento perché adesso questo inizio potrà essere modificato anzi sarà modificato e quindi lo passo come riferimento mi spiego fra un attimo guarda la 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 funzione è brevissima non vi preoccupate sarà chiaro il concetto quando io inserisco un elemento in testa una lista la lista ha un certo inizio se inserisco un elemento il puntatore cambierà quindi io se lo passo per valore il puntatore lo posso usare posso risalire a quella lista certamente ma non lo posso cambiare se io lo passo per riferimento lo posso andare a modificare inizio questa qui è una funzione veramente compatta anche molto efficiente funziona così è il codice che abbiamo appena visto però lo andiamo a rivedere mi crea un nuovo elemento e lo alloco all'indirizzo P popolo come lo devo popolare prendendo le informazioni dall'elemento che gli ho passato cioè P freccia info diventa A.info io quell'elemento ho detto che lo deve inserire gliel'ho passato per valore fra l'altro proprio banalmente tutte le informazioni che stanno in A A.info vengono riversate in P freccia info ok poi mando l'elemento appena creato appuntare l'inizio quindi lo inserisco in testa ed ecco il trucchetto inizio lo mando a puntare P adesso non c'ho la lavagna per fare i giochetti però crea un nuovo elemento questo sta in questo momento per conto suo all'indirizzo P gli metto dentro i valori prendendoli dall'elemento A poi lo leggo alla lista in testa dicendo che il campo successivo di questo nuovo elemento deve andare a puntare quello che sta puntando all'inizio della lista cioè il primo elemento cioè questo elemento che appena creato mi va a puntare il primo elemento della lista e quindi diventa lui il primo elemento perché punta il primo e lui sarà il primo ma questo non è ancora detto perché lui diventi veramente il primo bisogna che il campo il puntatore inizio che punta il primo invece che puntare quello che attualmente è il secondo deve puntare a lui quindi inizio uguale P esatto però questo è più efficiente per questo lo cambia lei questa è pulitissima cioè dal punto di vista della pulizia concettuale fa tutto lei appunto che io posso andare sul codice e che si conclude con questo esempio la lezione di oggi è un po' lo stesso di prima però con questo trucchetto cioè io mi definisco mi definisco la solita struttura studente ecco questa funzione qui anzi questa procedura è quella che abbiamo appena discusso genera un nuovo elemento de referenza prende l'elemento appena creato e lo rende uguale a elem cioè così facendo viene fatta una copia vi ricordate che abbiamo detto che le strutture si possono assegnare e quindi io assegno alla struttura puntata da P quella appena creata nello hip esattamente elem quello che gli ho passato quindi viene copiato tale e quale byte per byte poi il campo lo vado a mandare a puntare il primo elemento della lista che gli ho passato e il puntatore al primo elemento della lista diventa P a questo punto l'elemento che ho appena inserito sarà effettivamente il primo noi vogliamo inserire questo elemento qui no 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 una copia questo qui è per valore attenzione questo è per valore l'elemento lo creiamo qui l'elemento è creato qui questa struttura qui questo parametro serve solo per passare i valori informativi è per valore questo la stampa è quella deprima forse un po' meno bulimica ecco poi concludo facendovi vedere la classica struttura di un main di prova d'esame è un ciclo in cui si chiede all'utente che vuoi fare puoi fare questo 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 come un menu di opzioni al menu il menu viene implementato nella forma di uno switch a seconda di quello che risponde l'utente farà una cosa piuttosto che un'altra qui ancora può fare solo due cose inserire un elemento in testa o stampare la lista per cui ancora c'è poco senso ma dopo quando faremo anche le altre cinque funzioni questo switch si arricchirà di un menu che ci avrà più voci e quindi comincerà ad avere un senso questo che sto per fare una variabile R di tipo carattere e poi inizializziamo una lista a zero cioè c'è una lista vuota che chiamo prova scritta prova d'esame scritto scritto mi creo una struttura d'appoggio LEM per leggere i dati che verranno scritti dall'input e poi parte un do while in cui gli dico grazie ecco quello che puoi fare premi per inserire in testa la lista premi batti es per stampare la lista qualunque altro carattere termina il programma questo do while andrà avanti finché R è i oppure è s qualunque altra cosa c'è l'or qualunque altra cosa provocherà l'uscita dal do while allora a questo punto vado a fare lo switch sulla variabile R che sarà stata popolata qui valorizzata qui letta dall'input se RI leggo in L il nome e in L anche il voto poi lancio inserisci in testa passandogli la lista che all'inizio è vuota e l'elemento da inserire cioè il nome e il voto da inserire nell'elemento da creare inserisci in testa creerà questo elemento e lo metterà in testa se io invece batto S verrà stampata la lista costruita fino a quel momento allora compilo è finita la lezione di oggi grazie ecco quello che puoi fare stampa voglio stampare la lista S stampa niente perché non c'è niente ok grazie cosa puoi fare inserisci allora devo inserire Rossi che ha preso 23 grazie ecco quello adesso voglio stampare la lista nella lista c'è all'indirizzo 10 Rossi che ha preso 23 e non sta puntando niente adesso inserisco un altro Bianchi che ha preso 24 adesso la voglio stampare allora c'è all'indirizzo 30 c'è Bianchi che ha preso 24 e che punta 10 all'indirizzo 10 c'è Rossi che ha preso 23 e non punta nessuno se adesso inserisco un altro vedete che Verdi l'ultimo inserito sta in testa punta l'indirizzo 30 dove c'è Bianchi che punta l'indirizzo 10 dove c'è Rossi che non punta niente perché è l'ultimo della lista qualunque altro sarà inserito in testa e questa cosa va avanti fino a quando lo non andrà a toccare la base dello stack bene questa era l'ultima cosa per oggi giovedì vediamo le cinque funzioni per gestire le altre cinque una l'abbiamo appena vista